Siamo al 10 gennaio 2015, qui per presentare Sei Volta! Sì, ti vogliamo dire tanti auguri dal cuore, ma vogliamo sentire la tua voce, vai Maura, saluta il pubblico a casa Ciao! Ciao, da dove vieni? Da Endine Che cosa fantastica, per gli ignoranti dove si trova questo posto? In provincia di Bergamo Oh ehi, ci piace, da Bergamo siete venuti in Piqua, e ne valsano appena? Certo che sì Mangiato bene? Bellissimo Vi piace l'intrattenimento? Bellissimo Bene, e noi siamo molto contenti, le sorprese non finiscono qua perché adesso avete visto di cantare una canzone, giusto? Sì E dici un po' che canzone sia? Io voglio vivere Di chi? Uela, ma è difficilissima, vogliamo sentire quanto si imbrava nel fare questo Ma prima dobbiamo presentare anche gli altri Fra il pubblico presente nello sfondo c'è il Moroso C'è il Moroso, ciao Moroso, eccolo lì Ma che blocco Sai che sembra uscito da Beautiful C'ha la faccia da Rich Ma andiamo a conoscerlo, ciao come ti chiami? Di dove sei? Cosa fai nella vita? Uela, Uela è pure intelligente Io qui intelligente, magari ce l'ho pure grosso e hai fatto bingo Lui è Andrea lo scrittore, no? Che ha scritto l'autobiografia Andrea 39, non di piede Ma ci piace, bene Carrellata di nomi anche degli amici, vai a caso Come vi chiamate? Andrew Steven Manuel Barbara Berdiana Più confusionali al 3 tutti assieme, 1, 2, 3 Barbara Bene, ci piace chi ha capito ha capito, chi non ha capito lo capirà Ma adesso è il momento di cantare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti